ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale oggi vi mostrerò una cosa che alcuni sanno alcuni non sanno non so quanti di voi lo sapranno però ve lo faccio vedere alcuni per esempio hanno pensato che fosse solo come un oggetto estetico sto parlando del visore notturno ragazzi invece contrariamente a quanti pensano non è solo un oggetto di estetica questo visore notturno allora il visore notturno innanzitutto si sblocca nella missione dei laboratori human insomma nel colpo di laboratori human ed è questo che state vedendo allora come state vedendo non sembra attivo non sembra fare nulla non sembra sembra essere una cosa del cazzo presa e messa lì invece no basterà andare su inventario equipaggiamento selezionare il visore notturno cioè la maschera e il visore notturno insomma premere quadrato e vedete ragazzi che funziona questo visore notturno ovviamente adesso è giorno quindi diciamo che il visore notturno serve un cazzo però magari di notte non lo so potrà servito a qualcosa secondo me serve ancora meno però magari non so qualcuno potrà trovarlo utile come state vedendo di giorno non si vede praticamente un cazzo o meglio si vede ma lasciano stanza insomma si vede alla cazzo de cane e però di notte come qualcuno l'avrà giocata la missione dei human human laboratori avrà visto che di notte diciamo è abbastanza figo come cosa no quindi ragazzi tutto quello che dovete fare chi ha sbloccato questa questa maschera dovrà semplicemente equipaggiare la maschera e premere il tasto quadrato e automaticamente vedrete in modalità notturna senza nessun genere di problema come come potete vedere adesso sono qui all'ombra diciamo dove è un po più buio dove c'è meno riverbero di luce e questo visore funziona diciamo abbastanza bene niente ragazzi per questo video tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao